Ciao amici di Bucconi TV, bentornati a B-Delicious, il format di Bucconi TV in collaborazione con B-Food. Oggi prepareremo degli involtini di pollo con spinaci e grana. Ora ci serve del petto di pollo, dei limoni, grana e spinaci. Ok, iniziamo cuocendo i nostri spinaci. Vai Sara, buttiamo sull'acqua bollente. Intanto che gli spinaci si cuocino iniziamo col petto di pollo. Prendiamo il nostro petto e anche qui, molto antistress, lo sbattiamo per assottigliarlo. Bene, basta che un poco al pugno, grazie Sara. Sì. Perché si scuocquarea. Ma essa la vuoi provare tu, no? Sì, questo piccolino, che però è bello doppio. Dimmi tu basta perché poi io continuo e perterrita. un po' più grande. Un po' più grande. Sì, un po' più grande. Guardiamo gli spinaci. Prendiamo la scolapasta. Allora, anche lo vuole dimorare gli spinaci. Guarda, anche lo vuole dimorare gli spinaci. Ok, ora che sono scolati li dobbiamo poter schizzare bene perché devono perdere tutta l'acqua. Facciamo con le mani. Tu sai, intanto puoi spremere il limone. Sì, prendo un coltello e un... Servono olice e caffè limone. Ok, e anche un bicchiere. Però non voglio farti del male. Alea, tagliamo i nostri spinaci. Abbiamo tagliato gli spinaci e ora iniziamo a fare gli involtini. Allora, un petto di pollo. Un po' di sale fino. Ok. Ok. I spinaci. Un po' di grana. Un po' di grana. E anche un po' di scocia di limone. Ora arrotoliamo. E il rotolino è pronto. Possiamo continuare. Se abbiamo fatto gli involtini e abbiamo spremuto il succo di limone possiamo cuocerli. Prendiamo una padella e un po' di olio. Facciamo rosolare gli involtini per qualche minuto. E se avete gli stessi calienti è meglio perché saranno fermi e non ce li abbiamo. Siamo forse disperati. Ok. Aspettiamo qualche minuto. Ora usurriamo qualche minuto per l'altro. Ok. E facciamo andare e sfumiamo con del succo di limone. E facciamo andare così per 5-6 minuti così si cuoceranno bene. Con il coperchio chiuso. Controllatemi tanto che non si bruciano le gerateli mi raccomando. Ok. Siamo passati 6 minuti e i nostri involtini sono pronti. E sai riprendi il piatto? Si. Penso di averlo montato bene. Perfetto, si è perfetto. Ok. Ok. Perfetto, si è perfetto. Perfetto, si è perfetto. Sì, non puoi schiappare un lavandino. Schiappare? Schiappare un lavandino. Non puoi schiappare un lavandino. Ah, come non ho detto. Non provare a farla. Non provare a farla. Anti spinaci. Anti spinaci. Ma è anche la camera. Mi rubano anche il lavoro adesso. Posso fare anche lo zoom tamarro? Difficile la vita. E si ricomplicherà sempre di più amici nostri. Eh, è vero. Che bello di questi spinaci. Poi c'è il mio giociccio. Questa è per la serie Fabiola apprezza tutto. Oscar non ha servito. Che bello di questi spinaci. No, è molto bello qua. Ascolta. Un bel fondo. E la nocca rossa fa molto tipo aggressive. E la dura. Sì. Ciao amici di Bocconi TV. Ma perché? Io ho una cosa. Devo dire una cosa. Una cosa e non mi esce.